Don Marco Senavio, direttore dell'Ufficio di Pastorale della Comunicazione della Diocesi di Padova, coordinatore della quarta edizione padovana del Festival Biblico a Padova dal 14 al 27 di maggio 2016. Don Marco, il fulcro, il filo conduttore di questa edizione padovana del Festival Biblico? Beh, innanzitutto c'è il tema giustizia e pace si baceranno, che sarà declinato secondo diverse categorie, da quella accademica in apertura sino a quella dedicata alle famiglie il giorno 20 maggio con uno spettacolo al Teatro Rex di Padova alle ore 16, destinato veramente a tutti. Il fulcro direi che è un concerto di pace e di dialogo tra le religioni che prevederà la presenza di tre donne appartenenti alle principali religioni monoteiste il 25 di maggio sera alle ore 20.45 al Teatro Verde di Padova, un'occasione unica per capire quale legame tra terra e cielo si può instaurare attraverso l'arte e come le religioni siano un segno di unione e non certo di divisione o peggio ancora di violenza. Un'ultima cosa, ricordo che c'è una costola di questo Festival Padovano che è attinente alla comunicazione perché il 20 maggio alle 16 del pomeriggio allo studio teologico della Basilica del Santo avremo la presenza del prefetto per la comunicazione della Santa Sede, la segreteria per la comunicazione che dialogherà con il filosofo Umberto Curi. Quindi appuntamenti di spessore e appuntamenti che vanno colti come occasioni per riflettere e andare a vedere.